Due vittorie fondamentali, entrambi ottenute in trasferta. La prima giovedì scorso a Monte Sant'Angelo nel recupero contro il Manfredonia, la seconda tre giorni fa a Stornara contro il Real City. Due vittorie che permettono al Corato di restare tutto sommato in scia dalla capolista Barletta, distante sempre sei lunghezze. La vittoria con il Manfredonia era la partita che decideva il nostro cammino, perché comunque staccarci di nove punti dal Barletta, con il Barletta in quelle condizioni, era davvero difficile recuperare. Ora siamo attaccati lì a sei punti, con una partita, uno scontro diretto in casa con il Barletta e dobbiamo sperare fino alla fine, noi non possiamo più permetterci di sbagliare, dobbiamo sperare invece che dall'altra parte qualche errore lo faranno. Sei punti di ritardo dalla vetta del Gironia di eccellenza non sono certamente pochi, considerando soprattutto l'enorme potenziale del Barletta, ma nulla è ancora compromesso in maniera definitiva. Il Corato crede sempre nella possibilità di raggiungere il primato. Non ci rassegniamo affatto, ci proviamo fino alla fine, il campionato è ancora lungo, mi dispiace per gli amici di Barletta, ma gli staremo alle costole fino alla fine. Domenica prossima intanto sfida interna al Borgo Rosso, arriva la matricola molfettese su Sintetico di Nuovo di Puglia per la seconda giornata di ritorno, Vito Tursi ha un messaggio molto chiaro per i suoi ragazzi. Non abbassare il grado di concentrazione, non sottovalutare l'avversario e rispettare l'avversario, perché noi in quelle poche partite dove non abbiamo fatto risultato a bottino pieno, forse il vero problema è stato proprio quello, infatti abbiamo perso dei punti in casa con l'Unione Calcio Biceglie, stessa partita a San Severo con una squadra di giovani, di ragazzi che ci ha dato filo da torcere. Chiusura dedicata a calciomercato, non mancheranno novità. Di sicuro faremo delle entrate più che delle uscite, perché abbiamo un organico abbastanza striminzito rispetto agli altri anni, quest'anno abbiamo proprio un problema numerico, spesso giochiamo con 4 under, spesso non riusciamo a completare la panchina, perché ci mancano diversi calciatori per infortunio e quindi dobbiamo di sicuro integrare qualche altro calciatore e cercare di mantenere un buon 90% di quegli attuali.